Allora ragazzi, buongiorno dalla Iene Operae. Niente, ieri sera il ministro Salvini ha dichiarato che un'esigua minoranza del sindacato mette in difficoltà un paese intero. Beh, direi che bisognerebbe ricordare a Salvini che comunque è l'esigua minoranza formata da due sindacati che insieme fanno qualcosa come 7 milioni di iscritti. Ecco, quindi l'esigua minoranza è un paio di pale. Il ministro Salvini, lei piuttosto, bisogna che ammetta che non sa più dove sbattere la testa perché comunque si è infognato sulla Fornero. Nel senso che hai fatto tante chiacchiere e alla fine niente fatti, siete riusciti a peggiorarla. Quindi si mette l'animo in pace e lasci che la gente quantomeno possa manifestare la sua rabbia. Perché la gente è arrabbiata, anche quelli che hanno votato lei, soprattutto quelli che hanno votato lei, quelli che hanno votato Fratelli d'Italia, quelli che hanno votato Forza Italia, perché di operai ce ne sono, che votano anche da quelle parti lì. E questa è la democrazia, io non mi sento di dire niente, ciascuno vota in base a quello che pensa. Però il problema è che lei, con la finanziaria che state facendo, state toccando tutti e siccome non sa più dove sbattere la testa, allora se la prende con chi va in piazza a manifestare. Bella roba, complimenti. Lei è proprio di una coerenza unica, il ministro Salvini. Unica proprio, è un unicum. La saluto, buona precettazione, visto che ha deciso di precettare e di fare le multe a tutti. Vada avanti, vada pure avanti, mi piace, mi piace. Pensi intanto che la gente debba andare a lavorare dopo un certo periodo, perché se no non ce la fa più nelle fabbriche, non possiamo lavorare fino a 65, 66 anni, 70 fra qualche anno. Ma state scherzando o cose? Ma avete rotto veramente le palle, avete rotto. Fate le cose come si deve, anziché fare queste chiacchiere da bare. Saluto a tutti di lei in operai. Grazie a tutti.